Musica Musica I danni che ha subito il negozio e successivamente gli aiuti che sono stati dati, risarcimenti, eccetera. Sì, danni subiti qualitativamente e quantitativamente. Sì, quantitativamente sono stati molto rilevanti, nel senso che avendo avuto più o meno tanta acqua fino a questa altezza e tutto ciò che è inerente alla materia elettrica, piccoli elettrodomestici, cavi, banche, vestibili, c'era di tutto, insomma. È stato disarcito? No, no, da nessuno, soprattutto niente. Quindi non ha ricevuto aiuto? Ho avuto qualche aiuto dalle parrocchie vicine, l'unico aiuto, ma per quanto riguarda gli altri enti, comuni, regioni, qualcosina qua dalle parrocchie di Marassi. Quale pensa sia stato l'errore? Cioè, pensa che i danni sarebbero potuti essere minori rispetto a quelli che sono stati? E' impossibile rispondere a una domanda così? E' impossibile? Come si fa? Ma anche rispetto alla speculazione di inizia? Ma sì, qui il danno è avvenuto, lo sappiamo ormai, no? Perché? Perché dove inizia la copertura del torrente a Ferragiani, c'è stato questo intasamento di mezzi, di auto, di... insomma, che il fiume con la copertura non ha pioretto, si è intasata e quindi ha invaso tutto. Non è mai successo, io ho parlato con gli anziani qua della zona e non ricordo la memoria d'uomo di aver mai avuto una... una esondazione del fiume Ferragiano. E quindi, come si fa a dire? E' stato un caso veramente eccezionale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ha avuto aiuto, ha visto gente che è venuta qua ad aiutare? Beh, sì, poi io sono stata a casa, sono scesa giù, a parte il fatto che mi metteva in panico totale, perché tu non hai idea di cosa ho visto, ho visto le macchine come si trova, ho visto le macchine come si trova, ci sembravano di birilli, cioè le macchine che passavano solo bisogno della spazzatura, quindi... Tanta assistenza da parte dell'esercito da parte dell'esercito da parte dell'esercito da parte dell'esercito e anche tantissimi ragazzi che non vengono niente di tutto questo, mi faceva soltanto per solidare tanti. Nonostante ancora adesso ci sia una situazione comunque di disagio, quanto tempo ci ha voluto per tornare all'ambulare? Beh, allora dunque, il primo mese è stato proprio, sembrava una guerra, una guerra, perché la strada è completamente chiusa, poi sono solo l'autobus per quanto riguarda noi, la nostra zona qui, non abbiamo assolutamente lavorato perché hanno tolto le fermate degli autobus, fermavano sopra, sopra, sotto... Ma sono stati presi i provvedimenti anche per quanto riguarda lo sgombro del fiume? Ma che io sappia, no, che io sappia hanno soltanto ricostruito i muretti, cioè li stanno ancora costruendo, no, scusate, quattro... Averneci immaginato tra i tre mesi e stanno finendo di ricostruire i muretti, che io sappia assolutamente no, ci sono anche i palazzi sopra che stanno subendo il cedimento, tanti appartamenti dopo le crepe... A quale non credo mi solleverò più sul piano personale, perché è davvero una cosa tremenda. Devo dire che dal punto di vista delle azioni amministrative, di quello che ha fatto la protezione civile, il comune con la protezione civile, mi pare davvero che umanamente, nei limini di ciò che umanamente si può fare, io non possa rimproverare troppo, né me stessa, né gli altri. Col senno di poi bisognava chiudere la città, ma come si faceva a sapere che sarebbe arrivato non un'allerta 2, ma quello che è arrivato. Politicamente credo che bisognerà ragionare su tutto questo, ma ora forse... Grazie per la visione! Grazie per la visione!